mamma mia si sta citando voglio prima vedere come gioca nelle duo e soprattutto se sta ancora citando guardate come brige in modo veloce andiamo ad attaccare subito il nostro vicino e voglio vedere se effettivamente lui ha no ok lui è morto e anche il signor citer è morto oh mio dio allora mangiamo il meladoro ma stanno arrivando gli altri abbiamo due azzurri sopra mi sa che siamo morti anche noi ok le ho giampati entrambi letto è andato dall'azzurro morto uno è morto anche l'altro elimina l'ultimo azzurro perfetto ok il pink l'abbiamo giampato il letto del pink è andato morto morto anche l'altro mangiamo il meladoro no e vabbè non potevo far nulla perché si deve mettere a citare davanti a me ok ora lo sfidiamo in 1v1 abbiamo visto che effettivamente sta citando quindi chi lo sa se ora utilizzerà lo stesso le hack mettiamo questo da parte e andiamo ad attaccarlo no iniziamo male eccolo eccolo che arriva sì bro ok da quanti blocchi mi ha aiutato mi ha rotto il letto guarda 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 ok l'ho chillato effettivamente nei fight normali non si nota tanto che citta ma io sono sicuro che sta citando per forza però un knockback lo prende tranquillamente ok è morto il letto l'ha perso mangiamo il meladoro ma che hit dava date le hit veramente molto molto strane risfidiamolo però dopo dobbiamo effettivamente vedere se sta citando o meno e posso corromperlo con una cosa se non mi dice la verità che appunto sta citando gli posso dire che magari gli regalo un vip in modo da vedere se in realtà è il video dove sfidi hacker ma l'ho appena detto quindi stai citando no no mamma mi aiuta non puoi rompermi il letto oddio oh 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 ok chillato sono delle hack davvero brutte perché effettivamente riesco a combatterlo tranquillamente si è messo anche la spada in ferro oddio date l'hit veramente oh mio dio che hit dà eh nulla qui non potevo farci nulla la spada in ferro veramente nulla 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 facciamo l'armatura un'ascia si vabbè anche io la meladoro e ora effettivamente cosa ti faccio il knockback comunque lo riprende poco mamma che hit che dà ora lo sto sentendo che comunque sta citando eh che poi come vedete la console non lo rileva che sta citando cioè alcune volte mi dà appunto che sta utilizzando scaffold ma non mi dà tipo reach cosa che sta utilizzando qualcosa di strano non so effettivamente che hack sta utilizzando ma ora ce lo facciamo dire per forza ok perfetto fa un danno ragazzi terribile mangiamo la meladoro e andiamo di nuovo a fightarlo che è morto no uscire dal gioco ma come bene ci siamo dobbiamo appunto fare l'ultima partita dove lo sfidiamo quindi mettiamo legno ma si dai già che ci siamo mettiamo legno ok è arrivato il momento di fightarlo oddio oh che reach a me che reach sta utilizzando ok morto perfetto ok nulla ragazzi è impossibile da affidare questo player è veramente impossibile oh ma mamma mia che poi la cosa strana che l'anticit non lo riporta nemmeno per reach no sta per fare il tnt jump ok è vivo e ne ho morto perfetto ok non se ne è corto non se ne è corto non se ne è corto ok lo sto utilizzando io la rich bro letto è andato mettiamo blocchi lì oh ok si va bene attraverso i blocchi mamma mia è nulla dai dobbiamo solo sconfiggerlo eh bro sei morto si va bene ora poteva anche reachare ma le hit gliele davo e quindi moriva bro è arrivato proprio quel momento devo bannarti mi sono divertito durante i fight ma devo farlo essendo che hai ammesso ti bannerò solo per 14 dei dopo ricordati di non cittare mamma mia posso sfidarti in 1v1 ce l'abbiamo ragazzi questo qui se veramente non ha disattivato le hack sta usando delle hack assurde ragazzi davvero è incredibile come citta andiamo subito appunto a fightarlo ok il knockback però lo prende e va bene possibile pure che le disattivate chi lo sa il letto glielo rompiamo mamma mia che hit che mi ha dato ragazzi voglio appunto rifaitarlo di nuovo sicuramente lui ha preso ora qualche gaphole vediamo mamma mia ragazzi si vede un po' che sta ricciando ma non tanto però un po' si stai usando rich vero non risponde il mio messaggio è caldo nel void lol nuova partita allora stai usando rich vero no non stai utilizzando nulla dai dimmelo stai citando vero nu tanto ti devo banare ti stavo aspettando nel kit pvp tanto vale ammettere stavi utilizzando la rich stavo anche laggando oh 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 dove va l'ho utilizzato attivatore ora controllino ok siamo sul suo enidesk vediamo cosa sta utilizzando ti amo bannami oh mio dio guardate cosa sta utilizzando sta utilizzando tutto e scrive anche legit ragazzi questo video è epico cioè il cheater più simpatico di tutti i tempi mi è venuta voglia di fare questo video perché ho visto che c'erano tantissime persone che stavano appunto citando e ho fatto e sento che li devo bannare prima li sfido e poi li banno ragazzoni vi saluto vi auguro una buona giornata ci vediamo domenelle 15 con un nuovo video mi raccomando divertitevi in questo periodo natalizio e fatemi sapere soprattutto nei commenti come ve la stare passando ci vediamo domenelle 15 con un nuovo video bella ciao 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 ciao